tra persone dello stesso sesso, che non vuol dire porre la questione delle coppie di fatto dello stesso sesso e questo deve prevederlo la costituità della famiglia naturale, è una normale conseguenza della cultura della famiglia naturale, così come oggi la qualità e per renderlo definitivo, perché a me dice sempre il valetto di prodotti, ci metta in questo principio di sussidiarietà, perché allora in tutte le materie sarà il principio di sussidiarietà, vuol dire che se è privato, è privato che fa il pubblico, lo deve fare almeno il pubblico, perché se il pubblico costa di più. Il tema di economia evidentemente, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale e regionale ed è un tema a cara d'Europa l'inserimento di zone franche nel nostro paese, perché altri paesi in crisi non hanno già fatto, non potete fare anche l'Italia, fattura, ovelo sia la fattura, tu ci paghi le tasse e l'IVA quando l'ha incassata, non quando viene e paga l'IVA su fatture che non incassa, ma non portano nessun beneficio né nella limitazione del nero né nella limitazione della collezione, abbiamo visto che il basso in Europa è uno dei problemi, è anche il sud di settore, perché il sud di settore lavora, produce ricchezza e nelle pare le tasse in proporzione a quella che realmente produce, e lo che in rete a partire da qualche minuto è la sintesi del problema.